Si avvicina la domenica di ferragosto, un appuntamento fisso per le spiagge pesaresi, un appuntamento che è cambiato negli ultimi due anni con tutte le restrizioni dovute alla pandemia, ma al ferragosto non si rinuncia. Lo si modifica, ci saranno feste più controllate, più adeguate al periodo pandemico, con le accortezze dovute al rispetto del distanziamento, al rispetto del divieto di assembramento e dunque una festa sì, ma festa che deve essere responsabile. Non si vogliono dunque ripetere gli episodi dello scorso anno che ad esempio portarono alla chiusura di due locali qui nella zona di Sottomonte dove ci troviamo in questo momento. L'anno scorso siamo stati un pochettino al centro di una festa con il Covid non proprio esaltante, quindi quest'anno abbiamo deciso di fare da mangiare in maniera tranquilla qua sotto gli ombrelloni per i nostri clienti. Prendiamo della sicurezza, della security, 5 o 6 persone che ci tengono i limiti della spiaggia in modo che dal di fuori la gente non arrivi per creare assembramenti. All'ingresso mettiamo una persona che controlla temperature e cerchiamo di fare al massimo perché tengono le mascherine, anche se sai in una giornata così calda, in un ambiente così grande, è sempre difficile. Più di questo diciamo in un ambiente aperto dove comunque la gente può arrivare da ogni dove, dall'acqua, da destra, da sinistra, è difficile, però ci impegniamo per cercare di fare il massimo. La gente deve imparare un pochettino almeno a tenersi la mascherina addosso e rimanere sotto il proprio umberlone che non potrebbe ballare nemmeno lì, danzare ma almeno a debita distanza con un pochino di musica visto che Ferragosto forse qualcosina leggermente è concesso per l'ultimo giorno dell'estate divertente e questo è. Non si può rinunciare al Ferragosto in una città di mare come Pesaro. Organizziamo una festa hawaiana con un po' di musica d'ascolto per i nostri clienti e ovviamente non saranno concessi i balli e a un certo punto del pomeriggio offriremo anche qualcosa da mangiare a tutti i nostri clienti, cosa che facciamo tutti gli anni ormai da dieci anni a questa parte. È una festa molto sentita e tutti ne vogliono partecipare. Ecco, questo stato di pandemia, di attenzione comunque agli assembramenti ha portato anche voi, Bagnini, magari ad avere un occhio di vigilanza ulteriore? Sì, sicuramente sì. Fin dall'inizio stagione abbiamo detto ai clienti che c'erano delle regole da seguire, un certo numero di persone sotto i vari ombrelloni e in più di altre regole per le varie aree comuni come l'area giochi, l'area picnic. I clienti seguono le regole, hanno imparato a seguire le regole in questi due anni di pandemia e a chi non le segue le proveriamo facendo quello che possiamo fare nel limite delle nostre possibilità. È però un ferragosto vissuto con non poche difficoltà per quegli stabilimenti balneari che faticano a organizzarsi per il timore di controlli eccessivi, lo stesso disappunto che è stato esternato da alcuni stabilimenti balneari in occasione di candele sotto le stelle. Io penso che sia stata fatta una cosa non fatta bene perché ci ha rovinato la serata delle stelle e anche il ferragosto fra l'altro che la gente non si pronota per questo Green Pass. Per il turismo penso che il signor Ricci abbia fatto una cosa fatta molto male. Non so, nei giorni festivi la gente balla in tutti i posti, nessuno viene a vedere. Secondo voi giusta questa cosa? Vedete voi!